ciao ragazzi oggi siamo al campo vola reggio emilia e questo è il palco principale dell'elro guardate che sembrerà di essere arrivati a casa vostra invece no siete ancora l'errore pronti al palco vi aspettiamo è presente lo stel del nostro merchandising elpe magliette e cappellini vi aspettiamo numerosi amici ma cosa va raccontato nicolas che la sua collega io credo che loro non lo sappiano in realtà quello che succederà però magari veniteci a trovare e così verificate noi siamo qua dalle dieci a mezzanotte elroo questa è la rogelia os esperiamo tutti nel merchandising avete capito no? è la mascotte del merchandising di elroo amici pazzesco a campo volo ragazzi alla fine era tutto vero questo è il palco 1 abbiamo venduto tutto abbiamo finito il podo tutto